Venerdì 21 settembre, a partire dalle ore 18 presso il salotto comunale di Battipaglia, verranno presentati i risultati del progetto sul monitoraggio della qualità dell'aria Safe Break Battipaglia, realizzato dal Rotary Club Battipaglia in collaborazione con Sand Square e con il patrocinio del Comune. I primi rilevamenti, raccolti in seguito all'installazione delle centraline per il controllo dell'inquinamento ambientale, saranno diffusi nell'ambito della tavola rotonda dal titolo Qualità dell'aria, un impegno per il cittadino e le istituzioni, moderata dal giornalista Carmine Landi.